Una nuova operazione, stavolta un duro colpo alla mafia di Bagheria? Sì, un duro colpo che si è concretizzato negli arresti eseguiti stamane dai carabinieri di Palermo col coordinamento della direzione distrettuale antimafia. Sono state raggiunte 22 persone dalla misura cautelare e alcuni di essi temutissimi boss, alcuni ristretti in carcere, che avevano gestito il sodalizio nell'ultimo decennio. L'attività concretizzata sia oggi è l'epilogo di una sinergica azione di contrasto posta in essere da inquirenti, investigatori, associazioni anti-racket e, dato nuovo, numerosi operatori economici. 36 imprenditori hanno deciso di infrangere il muro del silenzio, di denunciare i propri aguzzini e di porre fine ad anni, per alcuni addirittura decenni, di gioco dal pizzo. E' emblematica a tal proposito la vicenda che ha vissuto un imprenditore costretto a pagare sin dai primi anni 90 e che, trovatosi in fondo al baratro dell'indebitamento, si è visto costretto a cessare la propria attività e a vendere la propria abitazione per far fronte all'ennesima richiesta estorsiva di Cosa Nostra. Grazie. 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 Grazie.